Piccola impulsione l'ultimo difensore è rimasto in vita l'ultimo difensore è rimasto in vita l'ultimo caricatore difensori eliminati missione d'attacco riuscita non caricatore l'ultimo difensore è rimasto in vita uso un drone scubacero tornate a occuparmi del caricatore dopo aver neutralizzato la minaccia prendete il contenitore di biorischio faccio un po' di fumo tornate a occuparmi del caricatore lasciate perdere il contenitore il caricatore il caricatore il testo è scato in giro l'ultimo difensore è rimasto squadra d'attacco eliminata missione completata siamo a 15 secondi l'ultimo difensore è rimasto il tempo è stato è tra 10 secondi rimangono 5 secondi hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore un operatore alleato rimasto l'ultimo difensore è rimasto in vita l'ultimo difensore è rimasto in vita stato recuperato disinnescatore online è attivo non sono difensore è rimasto un solo difensore è rimasto il drone è pronto disinnescatore online è attivo un nuovo nemico è rimasto un altro nemico è rimasto un altro nemico è rimasto in piedi forza l'ultimo video l'ultimo difensore è rimasto Contenitore di biorischio localizzato Attività nemica Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Vendicatevi del contenitore Tornate a occuparvi Tornate a occuparvi del contenitore Tornate a occuparvi del contenitore